Eccoci tornati in diretta, dunque come promesso prima della pubblicità, stamattina andiamo idealmente nella bellissima terra di Sardegna perché in questa terra è presente da pochi giorni la reliquia del cuore di Padre Pio e vedete inquadrati nel nostro maxischermo Padre Roberto Sardu, grande cappuccino di Sardegna, grande amico di Padre Pio TV e Padre Gregorio che da San Giovanni Rotondo lo abbiamo ritrovato in terra di Sardegna Buongiorno ad entrambi, grazie per essere con noi, siete dinanzi alla reliquia del cuore di Padre Pio, pace e bene, bentrovati Buongiorno, grazie Allora Padre Roberto partirei da te e con te, spiegaci un po' il senso di questa iniziativa, di questo cuore di Padre Pio questa reliquia così importante, insigne, che arriva in una terra di santi perché la Sardegna davvero ha dato tanti santi non solo all'ordine dei frati minori cappuccini ma anche alla Chiesa Universale Sì, è stato un desiderio che da molto avevo, pensavo non si potesse realizzare poi quando ho visto che il cuore è andato a Pescara da Padre Guglielmo allora io ho tentato con il rettore e adesso provinciale Padre Di Leo di cui ringrazio vivamente e pubblicamente per aver concesso questo dono dopo tante insistenze sia con lui, poi è volto al nostro arcivescovo Monsignor Batturi che è anche segretario della CEI, quindi subito ha fatto domanda, ha accolto a volentieri con l'arcivescovo di San Giovanni Rotondo, Monsignor Franco Moscone e poi il prefetto della congregazione dei Santi hanno dato una risposta positiva al mio desiderio che venisse qui in Sardegna, qui nel santuario della Madonna della Consolazione dove riposa nei resti mortali del servo di Dio Fra Nazareno che era suo figlio spirituale e parleremo anche di questo rapporto Padre Roberto con Fra Nazareno 1-8 giugno sono le date che avete individuato per questa ostensione del cuore di Padre Più abbiamo individuato queste date perché il 2 giugno c'era il convegno regionale dei gruppi di preghiera è una data importante, sono date importanti quello su cui mi vorrei soffermare Padre Roberto è sulla folla immensa perché io ho letto anche un po' le cronache dei vari giornali locali seguendo anche il tuo profilo social insomma si nota che la gente di Sardegna vuole bene a Padre Pio vuole tanto bene a Padre Pio e permettimi, forse non vedeva l'ora che davvero fisicamente fosse presente in mezzo a voi sì, penso proprio di sì perché la Sardegna ha avuto tanti figli spirituali di Padre Pio tra cui noi abbiamo avuto un vescovo che è stato anche arcivescovo di Foggia Monsignor Paolo Carta che ha consacrato anche la chiesetta antica la Santa Maria delle Grazie diciamo l'aveva consacrata a lui Padre Pio vivente, erano amici quindi lui ha portato tanta devozione di Padre Pio in Sardegna poi qui c'era anche, che è morta centenaria la tata dei figli del Dottor Sala che era medico di Padre Pio e sindaco di San Giovanni Rotondo che è vissuta per trent'anni a San Giovanni Rotondo poi è tornata in Sardegna e è morta l'anno scorso quindi c'è tanta devozione e poi anche per la gente che non si può reccare a San Giovanni Rotondo è un pellegrinaggio continuo di persone e solamente ieri ci ha guastato un po' la pioggia altrimenti le messe vengono celebrate alla perda Sì, infatti come dicevo ecco le cronache parlano proprio di questa folla immensa vorrei andare ora da Padre Gregorio Padre Roberto perché Padre Gregorio fa parte un po' della delegazione dei frati di San Giovanni Rotondo che hanno accompagnato questa reliquia in Sardegna che clima stai trovando Padre Gregorio? Siamo qui con Padre Carlo Iguardiano e Padre Giovanni Delicarri che ci ha accompagnato anche lui certamente ci ha accompagnato l'autista Leone D'Ammiano che sta qui con noi e come diceva Padre Alberto è stato veramente un fiume di gente di devoti posso dire che il mio confessionale non me lo volevo far più uscire quindi tante volte venivo Padre Roberto e diceva esci esci quindi veramente è una devozione come diceva Padre Roberto ieri nonostante la pioggia la gente è corsa è corsa veramente la chiesa era sempre piena di gente e di devoti si rivolgevano anche a noi e ho visto anche tanti lacri Padre Gregorio che cosa chiede la gente di Sardegna Padre Pio? Quello che chiede la gente veramente chiede la pace in modo particolare nelle loro famiglie ecco nel e nei loro paesi perché destino tante il Brasile ecco stiano tanti i papi che chiedono la pace ma anche io dico più che la pace è un buon mondiale ci chiediamo con la pace le nostre famiglie che tante volte manca questa pace ma chiedono questo ecco certamente si chiede la salute la salute fisica ognuno ha i malati in casa quindi chiedono la salute come veniva da Padre Pio veniva da Padre Pio a chiedere la salute e infatti Padre Pio poi ha creato la cassa e la sofferenza proprio di malati certo è un segno di consolazione importante dunque questa presenza del cuore ma pregano pregano sì dicevo è un segno di consolazione importante questa reliquia del cuore di Padre Pio in terra di Sardegna Padre Roberto torno da te perché tu hai citato anche un altro figlio spirituale di Padre Pio molto importante noi ne abbiamo parlato anche qualche tempo fa quando abbiamo un po' approfondito il rapporto tra Fra Nazareno e Padre Pio stesso che condividevano ecco questo amore per Cristo tanto che poi sono ecco uniti nel segno della figliolanza spirituale chiamiamola chiamiamola così giuro ancora la telecamera vi faccio vedere la tomba di Fra Nazareno bene siamo in diretta quindi ecco è tutto fatto al momento quindi qui è la tomba di Fra Nazareno dove riposano i suoi resti mortali questa è la tomba e Fra Nazareno e Padre Pio potremmo dire si sono ricongiunti volevo chiederti Padre Roberto parlaci un po' di questo rapporto fra queste due figure importanti di seguaci di San Francesco si è dunque Fra Nazareno dopo che rientra dall'Africa perché era fatto la guerra in Africa poi prigionieri in Africa poi lì aveva aperto un piccolo ristorante dopo che rientra ha una crisi spirituale che va mi sente parlare di Padre Pio va a San Giovanni Rotondo incontrare Padre Pio Padre Pio i primi giorni lo tratta male quindi lo caccia via anche dalla confessione lo fa piangere per un po' di giorni poi lui non si è scoraggiato è tornato e dopo hanno incominciato una direzione spirituale Fra Nazareno chiese a Padre Pio voglio farmi frate e Padre Pio gli rispose si ti farai frate Cappuccino ma in Sardegna perché la Sardegna ha bisogno di te e così è stato io ho vissuto con Fra Nazareno per più di 15 anni quindi sono anche il vice postulatore della causa di beatificazione abbiamo già la posizio già data anche di castelli romani quindi la causa va avanti e speriamo adesso venga approvata al più presto così potrà essere proclamata anche venerabile ma il rapporto tra Padre Pio e Fra Nazareno è stato grande lui ha divulgato tanto questa devozione in Sardegna aveva sempre un guantino di Padre Pio e con quel guantino che passava sopra le persone malate ha operato tante guarigioni è un segno importante anche questo allora Padre Roberto per concludere abbiamo detto all'inizio 1-8 giugno sono le date in cui la reliquia sarà presente nel convento vuoi dirci un po' quale sarà il programma di questi ultimi due giorni allora guarda stasera avremo la partecipazione del cardinale Arrigomiglio che è il nostro cardinale qui in Sardegna creato da poco e da Papa Francesco verrà lui a presiedere con tutti i pretti della zona di Cula e poi dell'Interland di Caglie ma stamattina ci saranno vari pellegrinaggi dei vari parroci che vengono qui ha insomma partecipato un po' tutta la Sardegna perché il 2 giugno era il convegno regionale ti posso dire che solo il 2 giugno noi abbiamo distribuito 5.000 comunioni quindi puoi immaginare certo poi domani è l'ultimo giorno sì dove ci sarà la presenza del vostro direttore Stefano Campanella la sera terrà una conferenza su Padre Pio e la confessione e poi il 7 mattina partiamo per l'isola della Maddalena lo portiamo lì perché l'isola della Maddalena c'è un gruppo di preghiera che ogni anno subito dopo la venuta del cuore loro ospitano dalla casa Soglievo i bambini oncologici assieme ai medici e ai genitori tutto gratuitamente lo fanno già da un paio d'anni quindi li abbiamo voluti premiare con questa presenza del cuore grande di Padre Pio che è venuto a trovarci quindi il 7 partiamo per la Maddalena sostiamo il 7 l'8 sera si parte per Olbia e i nostri confratelli col cuore li ringraziamo tanto ripartono per San Giovanni Rotorio bene bene allora Padre Roberto io davvero ti ringrazio di cuore era un gesto doveroso far conoscere ai nostri amici e agli amici telespettatori quanto sta accadendo in terra di Sardegna perché il cuore di Padre Pio è talmente grande che abbraccia davvero tutti i confini della terra e in ogni posto ovunque questa reliquia è stata portata davvero a raccolto migliaia e migliaia di persone e anche di conversioni che è poi alla fine il dato più importante il dato che diciamo esula da quello numerico e che a noi interessa davvero di più davvero di cuore grazie grazie Padre Roberto grazie a Padre Gregorio ci vediamo a San Giovanni Padre Gregorio ci vediamo in nove in nove benissimo pace bene grazie pace bene ad entrambi grazie di cuore e ora ci fermiamo per la pubblicità e poi ritorneremo ancora insieme